Senti che sta arrivando una telefonata, tu che ho chiamato a casa, dici di cosa hai bisogno. Sì, pronto? Mago Valengo, sono Luigi, da casa mia, volevo farvi una domanda. Chiedi, e te sarà il risposto. E cosa succederà nella mia vita al 31 ottobre? Non lo sa dire. Caro Giancarlo, devo chiedere agli spiriti per avere informazioni. Chiedo alla mia assistente di passarmi la carta. Grazie, assistente. Dai, Mago, salvami tu, ti prego. Spiriti, spiriti, ditemi che cosa accadrà a Gianfranco nel giorno del 31 ottobre. Ah, bravo da Luigi, mi chiamo, Luigi. Il giorno del 31 ottobre, Gianfranco sente la presenza, sente la presenza nell'aria. Maronna mia, che è? Tu parteciparai alla serata del Degheio, all'appartamento Hoffman da Conegliano, in la provincia di Treviso, per la serata di Harlowfoot. Mago Palenco ha parlato. Grazie, Mago, grazie. Mi ha salvato la vita. Aspetta, sento un'altra forza. Caro Giancarlo, io sento che tuo figlio si droga. Ma che cazzo fa questa telecamera? 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 Grazie.